Alessandro Ramagli è il nuovo capo allenatore del Pistoia Basket. L'annuncio nell'area da giorni è stato dato poche ore fa, subito dopo la rescissione del contratto fra il coach Labronico e la sua ultima squadra, la Virtus Bologna. 54 anni Livornese nella sua lunga carriera iniziata nei primi anni 90 all'interno del settore giovanile del Don Bosco, Ramagli ha totalizzato quasi 600 panchine fra Serie A e A2. L'inizio fra i grandi risale al dicembre 99 quando in Serie A2 subentrò Stefano Michelini proprio nella sua Livorno. Scelto nell'estate del 2000 da Marco Crespi come suo assistente sulla panchina di Biella, dopo un solo anno viene promosso head coach dal club piemontese con cui in cinque campionati di Serie A colleziona ben 179 panchine centrando i play-off in due occasioni. Nel gennaio del 2007 è ingaggiato da Pesaro in Lega 2 dove è riuscito a centrare un'insperata promozione in Serie A. L'impresa compiuta nelle marche gli valse la chiamata della Benetton Treviso ma la sua esperienza in terra veneta si concluse già nel mese di dicembre. Dopo una parentesi con la nazionale under 18 Ramagli è ripartito nuovamente in Lega 2, stavolta a Reggio Emilia dove è rimasto fino al 2010. Poi due stagioni a Teramo e con il fallimento della società abruzzese il passaggio a Verona in Serie A2 fino al 2015. Ancora un'esperienza la menzana siena sempre in Lega 2 e quindi la stagione d'oro a Bologna con le vunere che anche grazie al suo contributo sono tornate subito in Serie A. Il resto è storia di oggi con la conquista del nono posto e con l'accesso ai playoff mancato per la classifica avulsa. Ramagli ha un contratto biennale.